Il 7,5% del PIL ha la sanità. La richiesta del Consiglio regionale della Toscana al Governo nazionale. Tempo di tartufo in Toscana a fine settimana di appuntamenti a San Mignato e a San Giovanni d'Asso. Garantire al Sistema Sanitario nazionale un finanziamento pari almeno al 7,5% del PIL entro il 2027. E' questo l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa regionale rivolta alle Camere, approvata nell'ultima seduta dal Consiglio regionale della Toscana. L'articolo 32 della Costituzione ci dice che la salute è un diritto fondamentale di ogni individuo e un interesse per la collettività. Non può essere quindi ogni anno oggetto di una contrattazione fra Stato e singole regioni, la quota parte di risorse che dal Fondo Sanitario nazionale diventano Fondo Sanitario regionale. Dire che il 7,5% del PIL ogni anno è destinato alla sanità e alle sue articolazioni a livello nazionale e regionale mi sembra il modo più corretto, più trasparente e più giusto. La richiesta del Consiglio regionale al Governo nazionale è quella di incrementare le risorse destinate alla sanità dello 0,21% fino al 2027, andando a migliorare i servizi ma anche la qualità del lavoro degli operatori. Noi abbiamo bisogno di più sanità pubblica. Per avere bisogno di più sanità pubblica è necessario che il Governo finanzi maggiormente le regioni. Inoltre in questa proposta, in questa legge che mandiamo al Parlamento, noi chiediamo di finanziare di più, di mettere più risorse per sostenere il personale sanitario. Noi abbiamo bisogno di più personale sanitario e abbiamo bisogno anche che le retribuzioni siano migliori rispetto a quelle odierne. E proprio rispetto al personale, la proposta di legge approvata chiede l'abolizione di una vecchia norma che limita le assunzioni. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici, ma anche quando le troviamo oggi abbiamo una norma che ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, vent'anni fa, ridotto l'1,4%. Una norma assurda che è contro i sistemi pubblici, contro la Toscana in particolare, che ricordo ha il più alto tasso di medici, dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. Siamo la prima regione per medici e siamo la quarta regione per infermieri dipendenti pubblici. Questa norma colpisce ovviamente prima di tutto le regioni che hanno sistemi pubblici molto forti e sviluppati. La proposta di legge presentata dal PD ha incassato 27 voti a favore e 11 contrari. Italia Viva con forza ha chiesto che sulla sanità venissero impiegate le risorse del MES sanitario. Noi abbiamo fatto riconoscere questo aspetto nel testo di legge, ovviamente lo votiamo. Bisogna avere il coraggio, dopo quello che abbiamo fatto nel 2015, magari da qui al 2025, di pensare che a distanza di 10 anni serve una nuova riforma sanitaria. Sì, anche dal Movimento 5 Stelle, non senza qualche polemica. Dal 2009 al 2019 la sanità ha visto tagli in Italia per 37 miliardi di euro, quindi significa che ci sono delle gravi responsabilità per chi ha governato in questi anni e le stesse responsabilità le hanno anche quelle forze che oggi presentano questa proposta di legge che è sicuramente accoglibile, alla quale abbiamo votato a favore, ma che deve essere poi corredata anche poi da un approccio a livello nazionale migliore, che è quello della proposta di legge sull'appropriatezza della spesa e sull'utilità anche della ricerca sanitaria e sul fatto che debba essere pubblica, che stiamo facendo a livello nazionale come Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sotto il 6,5% la sanità viene definita come povera. Polemica anche tra il PD e i partiti del centrodestra che hanno votato no in blocco. Abbiamo fatto questa proposta in sintonia con altre regioni. Dispiace che la minoranza di centrodestra si sia voluta distinguere e ha votato contro, tenendo più di conto di quelle che sono le impostazioni e le ragioni di partito che non quelle delle esigenze di salute di tutti i toscani e di tutte le toscane. Cosa che invece in Piemonte hanno superato perché pur essendo una regione governata al centrodestra questa legge è stata approvata all'unanimità. E proprio il caso della proposta approvata in Piemonte ha scatenato le accuse della destra. Io non so cosa sia successo in Piemonte, l'hanno fatto riferimento più volte, so cosa succede in Toscana, la Toscana è stravolta agli scandali in sanità, la Toscana ha un proliferare continuo di primari e primariati, la Toscana non riesce a spendere i soldi per accorciare le liste d'attesa, la Toscana ha dei linguaggi digitali che sono differenti da una zona all'altra, la regione senza che gli ospedali possano comunicare tra loro. Io penso che prima di chiedere più soldi si debba spendere meglio, molto meglio, i tantissimi soldi, oltre 8 miliardi di euro che arrivano alla regione Toscana per la spesa sanitaria e che vengono spesi molto male. Soltanto nel giugno del 2022 il PD ha approvato una proposta di risoluzione, un documento di 994 pagine dove non c'è mai fatto alcun riferimento ad agganciare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. È evidente che questa proposta di legge che mandano alla Camera e al Senato è una proposta di legge strumentale che ha l'unico scopo di attaccare il governo. Il governo è il governo che ha messo più soldi nella sanità pubblica, 136 miliardi di euro. Quando governava il PD ce ne venivano messi 120 miliardi. Il governo che per primo dopo tanti anni aumenta gli stipendi di medici e infermieri evidentemente è una proposta strumentale, demagogica, populista, che noi non possiamo che respingere. No secco anche da Forza Italia e Lega. Con speranza nel triennio 2023-2025 avevamo un 0,6 in meno di tendenziale. Nel 2024-2026 con Schillace, quindi il governo attuale, avremo uno 0,6 in più. Imporre un 7,5% rispetto al PIL è assolutamente aleatorio. I soldi per la sanità non sono mai abbastanza perché non sono una spesa ma sono un investimento. Dobbiamo tener conto allora che facciamo, le eleviamo alle scuole, le eleviamo alle pensioni, ma cerchiamo intanto di razionalizzare le spese e di fare in modo che ci sia una proprietà prescrittiva, che ci sia una proprietà di ricovero all'ospedale. cercare di prevenire. Quindi ecco, io credo che rivedere un'organizzazione sanitaria sia alla base di tutto questo, al di là delle speculazioni politiche. Novembre all'insegna del tartufo a San Miniato, nel borgo in provincia di Pisa, ancora per i prossimi due fine settimana, si terrà la 52esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco. 52esima edizione del senso del valore, del radicamento che questa manifestazione ha a San Miniato, ma in tutta la Toscana. Il tartufo è un'eccellenza della nostra terra. Il buon tartufo nasce dove il territorio è tenuto bene. E' bene il titolo che ha scelto il comune di San Miniato, San Miniato Promozione, che pone al centro il tema della sostenibilità ambientale. Solo con iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale si può produrre un tartufo sempre migliore. Meteo e temperature sono fattori determinanti per la crescita del tartufo e quest'anno in particolare non hanno fatto registrare le condizioni migliori, anche se gli organizzatori sono certi della bontà dei tartufi in mostra. E' probabile che la stagione buona, anche in maggiori quantità di tartufo, arrivi un po' più avanti, tipo per l'ultima settimana del tartufo. Mi dicono però i commercianti dei tartufi e i tartufai che già la scorsa settimana la quantità di tartufi è aumentata, perché prima era veramente molto poca. C'è un tema, e lo sapete, quello è il cambiamento climatico, è inutile che mi metta a dirlo, il tema appunto anche quest'anno è la mostra mercato, quella della sostenibilità ambientale. Tranquillizzo tutti, venite assaminati il tartufo. Il tartufo c'è, magari sono tartufi di più piccola dimensione, cioè rispetto all'occhio non saranno tartufi bellissimi o grandissimi da vedere e da sentire, però il tartufo c'è, ecco, un po' più piccolo ma c'è. Una mostra, quella di quest'anno, più estesa rispetto alle precedenti edizioni, fino a coinvolgere tutto il centro storico. Noi organizziamo la mostra quest'anno con una soddisfazione in più. Proprio ieri un nostro chef ha vinto a Qualagna, una gara importante è andata in finale con Alba e ha vinto. Questo ci dà la carica perché per quest'anno siamo la capitale italiana del tartufo, perlomeno relativamente a questo premio. Noi anche quest'anno la tematica individuata è la sostenibilità ambientale, per cui tutta una serie di iniziative che sono culturali, a sfondo sociale, davvero tante, 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 che però hanno alla base appunto la sostenibilità. E anche San Giovanni d'Asso, nel comune di Montalcino, celebra il suo tartufo bianco. Nei prossimi due weekend nel borgo si terrà infatti Diamante Bianco, una delle mostre mercato più tradizionali e antiche d'Italia. È la 37esima edizione, segno di un radicamento forte sul territorio. Il tartufo è un'eccellenza toscana, è un'eccellenza delle crete senesi. È il momento per poter far conoscere sicuramente la prelibatezza del tartufo, ma tenere insieme anche le altre tante peculiarità della cucina di quel territorio, a partire dal vino. È un modo per tenere insieme anche dei messaggi forti. Permettetemi di ringraziare l'amministrazione comunale, gli organizzatori, per aver voluto dare, donare il tartufo per la pace a una grande donna, a Liliana Segre, a cui va il nostro grazie più sentito, sincero, per il suo impegno verso gli altri, per il suo impegno per la pace, per il suo impegno per mantenere viva la memoria. Un prodotto di eccellenza che deve essere tutelato. Qui siamo di fronte a un'eccellenza massima, il tartufo bianco delle crete senesi è il tartufo. Di fatto è l'eccellenza della nostra produzione, un prodotto frutto del lavoro dell'uomo e credo che serva all'impegno della nostra regione nel tutelare questa, che è una particolarità. Quando si parla di tartufo, molte volte si parla in termini generici, il tartufo come eccellenza, come elemento di un diamante bianco che la terra ha donato ai nostri antenati e hanno il dovere e il compito di coltivare, di tutelare e di valorizzare. Cene di gala nel castello, degustazioni guidate, stand, gastronomici, cooking show e non solo. Partiamo per prima cosa con una tavola rotonda dedicata alle scuole, con l'Istituto Agrario di Siena e il distretto rurale di Montalcino. Grandi novità sono quelle del treno Natura, che è comunque riproposto anche per questa edizione, per le due domeniche. È già tutto al completo. Prevediamo di avere abbondanza di prodotto, che ovviamente è a chilometro zero, perché noi garantiamo durante la manifestazione che tutti i tartufi che arrivano alla manifestazione siano cavati nella zona delle Crete Sienesi. Per questa edizione è tutto. Potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.it